Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale quest'oggi siamo andati a fare un po' di spesa da Lidl più che altro non ho approfittato perché avevo visto il volantino avevo visto che c'erano un bel po' di giocattoli carini di quelli in legno e quindi insomma ho deciso di iniziare a fare i regalini di Natale per Alessio unico problema che quando vado in giro con lui non riesco a vedere praticamente niente perché ovviamente tutte le cose che guardavo le voleva prendere e mettere nel carrello quindi insomma riuscire a farle una sorpresa è ben difficile anche perché poi ovviamente arriviamo a casa e me le cerca nel sacchetto quindi insomma in sostanza sono riuscita a comprargli due giochi di quelli in legno, c'era ben poco come sempre d'altronde dove vado qui io però insomma è la Lidl più vicino casa e quindi dovendo fare anche un po' di spesa insomma sono andata a questa e abbiamo praticamente comprato due giochi di questi in legno uno quindi glielo ho già dato da distrarlo un attimino e gli ho preso che l'ho pagato 6,99 euro gli ho preso il set c'erano diciamo vari set ecco qua sono riuscita sono riuscita a togliergli la scatola quindi gli ho preso il set per la colazione perciò con la brioche il coltellino sono quelli che hanno il feltro all'interno e quindi lui riesce a tagliare perciò la brioche l'uovo e dato che ultimamente giochiamo spesso a fare il picnic in casa allora insomma praticamente ha scelto lui c'era carina anche la pizza questo era quello da 17 pezzi c'era anche quello da 27 pezzi con la pizza dove praticamente sempre in feltro poteva mettere i vari ingredienti qui c'erano le olive i views da mettere sulla pizza però lui ha scelto questo insomma ho fatto decidere a lui perciò questo è un regalino così non è un regalo di Natale invece per Natale questo insomma non glielo devo far vedere lo devo incartare anche se poi quando eravamo dalla cassa aveva già allungato la mano gli ho preso questo che è il trenino telecomandato e praticamente questo qua l'ho pagato un po' di più 14,99 e credo che sia compatibile con la pista di legno dell'IKEA del trenino dell'IKEA dato che noi quella l'abbiamo essendo che ha la calamita magari riesce ad attaccare anche gli altri vagoncini d'IKEA e quindi insomma a tirarli con il telecomando vedremo comunque questo son certa che gli piacerà perciò glielo incarto e glielo metto poi sotto l'albero e poi allora vabbè come spesa proprio vabbè ho comprato intanto tiro fuori abbiamo fatto due buste di roba come sempre ho comprato la robialosella questa volta l'ho presa perché era scontata anche se comunque devo dire che ho provato quella nonno nanni e mi piace di più comunque questa l'ho pagata 1,29 euro poi ho comprato la mozzarella di bufala perché me l'avete consigliata voi questa di Lidl una di voi me l'aveva consigliata è quella appunto di origine campana della marca Italiamo e questa qui l'ho pagata 2,45 euro però insomma ce n'è 250 grammi all'interno quindi non vedo l'ora di provarla di assaggiarla perché sono sicura che sarà buonissima poi abbiamo comprato vabbè io come sempre mi sono presa i miei hamburger questi qua vegetali diciamo in salva cena quando non so cosa far da mangiare e questi qua stavolta li ho presi con gli spinaci mi sembra di non averli mai provati comunque questi solitamente quelli con cecce avena o con le verdure grillate mi sono piaciute quindi insomma ho preso questi e li ho pagati 1,60 euro poi vediamo un po' vabbè abbiamo preso delle olive verdi queste qua grandi denocciolate le abbiamo pagate allora le olive 1,59 euro poi sempre in tema regalini vabbè questo in realtà perché piaceva forse più a me mi sono fatta attrarre da questa confezione natalizia con la renna in peluche c'erano diversi soggetti c'era la renna l'aluminio di neve vabbè un leoncino mi piaceva la renna e la confezione di cioccolatini quindi queste qua sono anche carine come magari regalino per magari bimbi un po' più grandi noi penso che alla fine cioccolatini ce li mangeremo noi l'ho pagata 5,99 euro e ad Alessio sicuramente quindi darò il pelucetto con la renna e poi allora ho comprato i lupi lupi quindi già che c'ero anche se in realtà in casa non ho ancora però mi sono presa ancora un pacco di lupi lupi in taglia 6 6 euro e questi 6 euro e 29 se non sbaglio 6 euro e 29 poi allora abbiamo comprato del prosciutto vabbè ne ho preso tre confezioni questo che tengo sempre in casa di scorta sempre il solito alta qualità sgrassato la terza confezione sarà nell'altro sacchetto comunque insomma questo qui l'ho pagato cioè li abbiamo pagati 4,77 euro 1,59 euro cada una poi abbiamo preso dei fazzoletti di carta alla Lidl conviene comunque prendere questa roba qui 1,19 euro ce n'ha all'interno 18 pacchettini e poi vediamo un po' cosa vabbè ho preso le fette al latte queste qua 2,29 euro e ce n'ha all'interno 7 poi ho preso le carote perché ho fatto di recente ve l'ho anche postato su instagram ne approfitto mi trovate come Rosy vita da mamma ho fatto la torta camilla che è una delle mie torte preferite anche adesso ne va di 8 quindi insomma le carote le avevo terminate perciò le ho ricomprate le abbiamo pagate 0,99 nella confezione da chilo poi ho comprato le crocchette di patate quelle che compro spesso quando vado da Lidl che ora devo mettere anche nel surgelatore queste qua le pago 0,99 sono davvero buone soprattutto fatte al forno ovvio non è che sono una cosa light e salutare però sono buone poi ho comprato dei griscini che avevo terminato quindi ho preso di nuovo queste arrotolate all'olio extravergine e questi sono quelli da 1,09 euro poi vabbè il mio marito si è preso un panino per oggi per lui una baguette questa qua ci è costata 0,29 centesimi poi yogurt anche questo un altro suggerimento di una di voi e quindi l'ho presa la lettera ho preso gli yogurt quelli tra virgolette muccati quindi questi qua proprio della marca latteria quelli magri ho preso al gusto fragola e al gusto ananas insomma ne ho presi solo due perché così non li avevo mai assaggiati io di solito alla Lidl acquisto i Milbona quelli sempre alla frutta e questi qua mi sono costati 0,22 centesimi cada uno quindi sono curiosa di assaggiarli poi abbiamo preso del formaggio dell'Asia Godop questo qua l'abbiamo pagato 2,69 euro ce ne ha all'interno 400 grammi i cubetti di arancia questi erano nel reparto deluxe sapete quando fanno tutti i reparti con tutte queste cose golosissime che invogliano già come c'è l'espositore mi invoglia acquistare tutto mi sono trattenuta quindi ho preso solo questi cubetti di cioccolato fondente extra fondente con all'interno l'arancia c'era anche con all'interno l'uvetta e lo zenzero per me lo zenzero non piace e l'uvetta insomma si mi piace alla fine sono canditi quindi io ve l'ho già detto sono pro canditi e quindi ho deciso di provarli questa volta con all'interno l'arancia e questi li abbiamo pagati 1 euro e 99 ce ne ha all'interno 100 grammi poi abbiamo preso vabbè le mie solite noci queste qua che adoro e questa volta non ho preso il mix ho preso solo le noci e le ho pagate 3 euro e 29 la confezione solita da 200 grammi poi ho comprato gli actimel perché li avevo terminati e vabbè io sapete che faccio spesso colazione con l'actimel questi qua ce ne ha all'interno 4 e li ho pagati 1 euro e 99 li ho presi gusto fragola anche perché l'actimel mi piace o così o bianco il gusto tipo pappa reale non mi piace e poi vabbè insomma ci siamo presi un po' uno sgarretto ovvero una confezione di patatine 0,99 centesimi questa si sa da tenere in casa se venisse a trovarci qualcuno ma poi sicuramente ce la snappiamo noi quindi insomma ragazzi questa è la piccola spesuccia che ho fatto oggi che poi è piccola alla fine abbiamo speso quasi 70 euro però insomma mi faceva piacere mostrarvi soprattutto i giochi in legno so che sono usciti il volantino è uscito già lunedì quindi in realtà sono andati almeno da noi c'era vi dico ben poco probabilmente sono già stati venduti ecco destino vuole appena siamo entrati c'era un ragazzo che usciva dal negozio con la pista grossa delle macchinine no del trenino quella da 59,90 se non sbaglio che avevo visto sul volantino poi all'interno del negozio non l'ho trovata quindi probabilmente ecco l'avevano terminata però se riuscite andate a vedere perché c'erano soprattutto sul volantino avevo visto che c'erano un sacco di giochi molto carini anche i set di veicoli per i bimbi insomma carini con macchinina della polizia piuttosto che la ruspa da ciao amore stai lì a giocare con papà? da 3,99 euro e poi c'era molto carina sul volantino ma in negozio non l'ho vista la casa delle bambole e tutti i vari personaggini poi c'era anche il galeone insomma ce n'erano c'erano parecchi giochi carini quindi se vi fa piacere andate a guardare anche perché secondo me i giochi della Lidl sono comunque infatti in legno sono certificati quindi comunque sono dei bei giochi ah poi non l'ho portata di qua probabilmente l'ho lasciata addirittura in macchina ho comprato anche un rotolo di carta ora che mi viene in mente un rotolo di carta per fasciare appunto già i regali di Natale e quello là mi è costato 1,49 euro solo che appunto l'ho dimenticato in macchina e comunque era cioè un bel rotolo non so quanti metri sarà stato però insomma per rifasciare i regali 1,49 euro l'ho trovato convenientissimo però molto carino con vabbè io l'ho preso rosso con disegnato gli alberi di Natale c'era anche con il babbo Natale con le stelline mille fantasie e insomma ragazzi questo è lo svuota alla spesa di oggi spero come sempre di avervi fatto un po' compagnia vi mando un bacione se siete nuove vi invito a iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto di mettermi un pollice in su alla prossima ciao ciao